Una canzone scritta durante un turno, che è stato forse l'ultimo turno di assuntivo che ho fatto, ricondando quante cose erano accadute nella mia vita di musicista, di autore, di compositore, di artiste, di Giubana, di Ciatone, di San Pompano, di persona che ha avuto veramente un grande privilegio, una grande fortuna nel poter parlare con le altre persone, questo vero successo di una vita, poter incontrare quanto più mondo possibile, magari non ci sarà mai tempo di incontrarlo bene, provo di essere stati in tanti posti e aver abitato almeno per qualche secondo in molti cuori. Grazie 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 Grazie